Lo zoo delle meraviglie, il tema della campagna social indetta dal Ministero per i beni culturali per il mese di dicembre in tutti i musei statali. Il Museo archeologico nazionale delle Marche ha aderito al progetto, proponendo un pomeriggio dedicato alle famiglie, in particolar modo ai bambini, che sono andati alla ricerca degli animali, protagonisti della vasta collezione del museo. Un gioco per veri investigatori. Prima di avventurarsi fra le sale, i ragazzi divisi squadre hanno dovuto scoprire le parole chiave che hanno loro consentito di capire quali animali misteriosi dovessero ricercare. Solo dopo aver risolto rompicapo ed enigmi, le squadre sono state in grado di seguire la pista giusta per raggiungere l'obiettivo, prima andando alla caccia delle impronte e poi, facendo attenzione ai più piccoli dettagli, i partecipanti hanno potuto scovare gli oggetti giusti all'interno delle vetrine. Tutte attività che hanno proposto un modo diverso di osservare con occhi curiosi i reperti del museo, divertendosi e allo stesso tempo imparando a conoscere gli infiniti dettagli e le innumerevoli meraviglie dei nostri antichi reperti.